Oltre i confini, 2017 ci siamo arrivati, è cominciata un'avventura così per caso nel 2014, siamo nel 2017 e speriamo di esserci qui ancora anche nel 18, 19, 20 eccetera. Come diceva mia nonna, non poniamo limiti alla provvidenza divina, perciò prima puntata di questo nuovo anno, prima puntata che magari qualcuno dirà oh, finalmente non parliamo di Valcamonica, no, per una volta ci spostiamo. Ci rispostiamo perché abbiamo un ospite graditissimo che su nostra sollecitazione è venuto a ritrovarci, l'avevamo avuto due anni e mezzo fa circa, ed è il sindaco di Oltre il Colle, ex senatore Valerio Carrara, grazie di essere qui tra noi, e insieme a lui abbiamo l'amico e collaboratore Libero Nicolic, Libero è una persona polivalente che molte volte mi dà una mano, mi dà una mano nel cercare le persone, mi dà una mano nel preparare i programmi e quando io posso ne approfitto anche per farlo sedere, diciamo, tra gli ospiti. 2017, auguriamoci che sia migliore di quelli passati, non diciamo che il 17 porta bene o male, gli americani sono un attimino più suscettibili di noi, però vedremo poi, en passant, quello che succederà. Allora, ridò la buonasera o il buongiorno ai nostri ospiti, Valerio comincio da te. Noi ci diamo del tu perché per convenzione ci siamo conosciuti un po' di anni fa in una precedente nostra trasmissione televisiva da un'altra parte, ed è, diciamo, si è creato quel feeling necessario per non usare il condizionale o il lei che in infausta memoria qualcuno voleva tramutare in un voi. Sarà fuoco la parentesi lei. Allora, oltre il colle. Oltre il colle è posizionato all'inizio, dopo il passo di Zambla, che ricordo è qualche metro più alto rispetto a quello della presolana, è posizionato in cima, diciamo, a quello che può essere la Valparina, che molti, anzi sempre, dicono se non Valbrembana, Valserina, invece no, la seciamo Valparina. Valparina. Vogliamo brevemente disquisire sul comune che tu amministri da un po' di tempo. Sì, grazie, grazie per questo invito, sempre gradito e prezioso. anche perché mi dà la possibilità di parlare anche un po' con la gente delle nostre vali che mi ha sempre sostenuto quando ho fatto il parlamentare. Buon anno a tutti i telespettatori anche da parte mia e che sia di buon auspicio per tutti quanti rivederci magari tra un po'. Non mettiamo limiti alla provvedenza. 25-30 anni è una cosa ragionevole. Io sono qui a rappresentare quelli che si dice a volte ritornano, come vedi. Ci sono, non ci sono. Esatto. In tanti mi chiedono, ma perché il tuo paese si chiama Oltre il Colle? Perché sia che uno salga dalla Val Serina, arriva a Valpiana, deve passare il Colle di Valpiana, la forcella, per venire al paese. Se sale dalla Val del Riso deve passare il Colle di Zambla e arriva. Ecco perché il nome è Oltre il Colle. Una volta probabilmente il paese era San Bartolomeo, come è il nostro patrono. Però il mio è un comune che come superficie è più vicino ai 37 km2. È circondato praticamente da quattro montagne, tutte superiori ai 2000 metri, dove spicca in particolar modo il Monte Arera, che, voglio ricordare, qualche anno fa, un privato ha ceduto proprio la vetta alla regione Lombardia. Questo perché ci ha permesso di cedere altri terreni e per poter acquistare quello che è stato il fallimento della Voic, perché era praticamente in fase di dismissione tutta la montagna, tutti i vecchi impianti, eccetera, eccetera. Allora, come comune abbiamo deciso di ritirare tutto quanto, però ci servivano un po' di quattrini. E allora abbiamo dovuto trovare dei compromessi anche con i privati per poter dare la possibilità alla regione di stanziare un po' di socchi. In un primo momento sono stato un po' accusato di vendere le montagne. Poi adesso la gente si sta ricredendo perché i quattrini stanno arrivando dall'Ersaf, dalla regione Lombardia, sia per il Giardino Botanico, sia per il Sentiero dei Fiori, sia per il Sentiero delle Farfalle, sia per la Cattedrale Vegetale. Tant'è vero che in questi tre o quattro anni, grazie anche al contributo del Parco dell'Europa, grazie al suo presidente, dottor Caccia, e al suo direttore, dottor Villa, che qui voglio menzionare perché sono persone che hanno dato tanto al nostro comune, come a tanti altri comuni, ci stanno permettendo di sistemare la strada d'arroccamento che da quota 1600, dove eravamo arrivati con la strada asfaltata e i parcheggi, ci permette di raggiungere il rifugio Capanna 2000, che è ben gestito dall'amico Rizzi, che tiene praticamente aperto tutto l'anno, i sabati e le domeniche e di mercoledì. E' forse l'unico rifugio su cui si può fare affidamento. Cosa posso dire? Noi sul nostro territorio purtroppo non abbiamo più alberghi, perché con tutte le normative europee che sono venute avanti in questi anni, hanno messo in condizione tutti quei piccoli alberghetti che avevamo, la gestione familiare, di non poter più far fronte agli impegni tra ascensori, collaudi, tutti i prodotti ignifughi, idrorepellenti, con tutte le nuove normative. Si è puntato lo sviluppo delle seconde case, si è puntato tanti anni fa a questo. Noi oggi non abbiamo più grosse speculazioni a livello edilizio, perché il mercato immobiliare si è fermato, si è praticamente bloccato completamente. Mentre noi avevamo degli appartamenti che fino a 4, 5 anni fa, 6 anni fa, si vendevano 2 o 3 mila euro al metro, adesso uno deve sperare che gli diano qualcosa. Primo perché come stazione turistica invernale noi possiamo offrire il fondo, noi abbiamo una delle più belle piste di fondo che ci sono, con un po' di presunzione, non solo in Bergamasca ma anche in Lombardia. È una pista omologata a FIS per gare anche internazionali e devo dire che è ben gestita dal nostro ski club dove ci sono dei ragazzi volonterosi, appassionati, maestri di sci, istruttori di sci, anche della nazionale, che la tengono in un modo perfetto. Quindi fanno il taglio dell'erba, tolgono i sassi, praticamente tolgono 2 o 3 metri di più. Ma voi avete anche una grossa tradizione di sci da fondo. Io nella mia memoria di molti anni mi ricordo che si è sempre parlato molto bene, lo si è sempre considerato un brutto cliente, lo sci club e lo treccole durante il giorno. Nelle gare di fondo, sì. Oh sì, sì. E come no? Soprattutto nelle staffette. E come no? Avevate una grossa nomea. Oggi non ti posso dire come siete classificati, per il semplice motivo che sono diventato meno giovane, mi sono dedicato a seguire di più l'uscita e discesa, anche per limitare il mio impegno intellettuale. Un po' più comodo. Un po' più comodo. Comunque siete sempre stati molto combattivi. Ho anche il piacere di conoscere alcuni dei colleghi di fondo di Oltre il Colle. Sono stato una decina di giorni fa trovarli e sono rimasto molto meravigliato dello sviluppo che ha avuto il paese. Molto bello, pulito. È una chicca. Sembra un giocattolo. Sì. Devo dire che diciamo che le amministrazioni si susseguono, ma devo dire che nessuna amministrazione che mi ha preceduto ha mai voluto deturpare il paesaggio che abbiamo. Tolte qualche rara, rarissima eccezione di due o tre case che forse sarebbe meglio di fare, eccetera, ma sto parlando di case costruite 40-50 anni fa, insomma. Per cui non c'era questa particolare attenzione al territorio e al recupero dell'esistente. Però, ricollegandomi allo Ciclub, a noi oggi stiamo mettendo in nazionale tantissimi ragazzi. Lo so. Tantissimi ragazzi. Proprio perché abbiamo tutti questi istruttori che sono passati dallo Ciclub a diventare maestri, a diventare istruttori, ma passando dalla nazionale. Quindi prima la nazionale B, poi la nazionale A. per cui abbiamo fatto tutto. Dal fondo, al biathlon, dalle gare corte, le gare lunghe, le gare sprint. Speriamo di vedervi presto anche a Clusone perché c'è un trittico, una gara che si svolge in tre giorni. Lo sai? Speriamo. Venerdì penso siano a Schilpario, sabato a Clusone e domenica sono a Soprogromo, agli spiazzi di Boario. Oltre il Colle, mille e... la media è 1.030. Come altitudine. Come altitudine. E come abitanti 1.000? Come abitanti siamo quasi 1.200. 1.200 sempre stazionari. Sempre stazionari. Un numero impressionante invece di seconde case. Sì, sì. Abbiamo più di 5.000 seconde case. È il discorso che stavo facendo prima. Cioè noi praticamente col discorso delle seconde case abbiamo sempre una costante affluenza di turisti durante l'arco dell'anno. Cioè durante gli weekend. Durante quei ponti lunghi. Mordi e fuggi. Quei mordi e fuggi. Perché hanno comunque la casa. Vengono. Ecco, in un momento come questo siamo un po' penalizzati perché chi aveva intenzione di fare la settimana bianca e venire magari a mettere anche solo gli scili da discesa. Perché abbiamo anche un paio di pistine da... Sì, lo so. Si vedono lì. Un paio di pistine al Colle di Zambla, dei Quistini e alla Conca dell'Alben gestito proprio da noi. Tra l'altro Quistini è suo anche un maestro di sci. Sì. Quistini sul Colle. C'è un fratello che lavora a Closone. Sì. Luciano. E so che il ragazzo si dà molto da fare con l'hotel Neve e con tutto lo schilettino che ha messo su. È un peccato. È un peccato perché perché loro tra l'altro pagano tutto personalmente. Pagano tutto personalmente perché è comunque un motivo di attrazione perché Zambla Alta rispetto al Colle di Zambla è sempre nel sole. Per cui le mamme che arrivano portano i bambini a sciare di imparare a sciare c'è il maestro che poi viene il luco è affiancato anche dal cognato dal Simone che anche lui è maestro per cui ci sono due maestri fissi lì che lavorano mentre vanno a scuola le mamme possono prendere il sole. Alla Conca dell'Alben normalmente il sole arriva ad aprile per cui la neve è più bella a nord però non essendoci il sole e non avendo un punto di ricovero per le mamme per i papà che possono assistere i bambini mentre stanno sciando ci è un po' difficile per cui ecco perché si è puntato al fondo in particolar modo e nel fondo si sa una volta che uno ha messo lì si fa la sua passeggiata o 5 o 10 o 15 o 25 chilometri che comunque è più impegnativo perché non ha quel ritorno finanziario come tutto l'impianto di risalita bisogna ugualmente curare la pista inerbire togliere i sassi tracciare avere delle omologazioni tu lo fai benissimo questo sicuramente però c'è da dire una cosa che per quanto riguarda i commercianti nostri il fondo porta un po' poco economicamente perché normalmente l'atleta del fondo arriva già cambiato non perde tempo parte e va torna se c'è diciamo un centro servizi un po' funzionante si fa anche la doccia si cambia sale in macchina e torna a casa mentre con la discesa cambia un momentino uno si ferma va al ristorante si ferma va al bar perché poi la giornata diventa di 8 10 12 il cliente della discesa ormai con tutto questo sviluppo è diventato estremamente esigente se la pista non è di quella lunghezza di quella curata se non c'è quella struttura di sostegno può essere un cliente più ricco però come si suol dire a oltre la rogno questo è vero questo è vero mi scusino mi scusino i discesisti naturalmente non c'è niente di personale è una battuta nel senso buono nella parola anche perché da noi la discesa proprio per quello che lei ha detto non ci permette di essere competitivi né con la Val d'Aosta né con Trattino dove lì avendo le regioni e statuto speciali hanno finanziamenti a pioggia lo sappiamo benissimo ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria seconda parte di questo oltre confine col sindaco di oltre il colle Valerio Carrara e con l'amico Libero Nicolic allora Valerio lasciamo un attimino così tra coloro che sono sospesi il discorso neve il discorso brutto tempo che favorirebbe la neve arriviamo un attimo all'estate tante seconde case sicuramente oltre il colle d'estate per lo meno nel mese di agosto che è il mese classico diciamo ferriale di sicuro si riempie magari scoppia anche magari 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 no arriva tanta gente arriva tanta gente noi siamo arrivate dalle punte di 25 mila presenze e devo dire che il nostro turismo è un turismo familiare cioè ormai l'abbiamo visto da anni da noi vengono i nonni con i nipoti i genitori arrivano il fine settimana quindi aumenta ulteriormente la presenza della gente e i giovani l'età tra i 18 i 22 i 23 anni spariscono quelli vanno al mare vanno non si vedono mi ritornano quando si sono sposati che arrivano anche loro con i loro figlioletti mi ritornano nel montagna perché noi abbiamo una gran bella cosa la tranquillità e devo dire che grazie ai servizi di vigilanza che fanno i nostri carabinieri perché noi ci arrabbiamo magari quando ci fermano ma dobbiamo anche ricordare i loro meriti cioè queste persone tengono il nostro terreno sgombro da ogni tipo di delinquenza quindi è rarissimo che nei nostri paesi ci siano cose fuori di testa insomma quindi merito all'arma per questo servizio che fa merito anche a tutti i sindaci della valle che ci stiamo coordinando per avere anche un servizio di vigilanza più efficace e più deficiente e ne approfitto anche per dire che sia la valle del riso che la valparina che la valserina ormai sono tutte monitorate da telecamere quindi adesso ci sono questi impianti ultramoderni che danno immediatamente attraverso il GPS se una targa è di una macchina rubata si è appagato il bollo si è appagato l'assicurazione si è fatto il collaudo quindi si controllano anche tutti gli automezzi che vengono magari scaricano abusivamente dal materiale sui nostri territori magari vengono vuoti vanno via pieni perché rubano come è successo ultimamente che ci sono stati dei furti di poca roba ma di rame e sono stati già collocati al loro posto dai carabinieri tramite queste telecamere per cui noi d'estate cosa possiamo offrire alla nostra gente al di là del paesaggio magnifico che abbiamo stiamo preparando delle passeggiate accessibili a tutti dai nonni ai bambini anche alle persone disabili stiamo preparando dei percorsi in mountain bike quindi ho un collaboratore che ha già preparato e ha già messo sul nostro sito del comune i vari percorsi già collaudati con tempo metodi fatica eccetera e poi ho i maestri di sci i suoi colleghi che organizzano in un nostro parco giochi l'avviamento allo sci di fondo praticamente noi montiamo durante l'estate una pista di fondo in plastica dove questi maestri si prestano gratuitamente qui devo anche ringraziarli pubblicamente perché non sempre la gente è disponibile a dare il proprio tempo gratis i discesisti no i discesisti raramente raramente io ho i discesisti invece che mi lavorano in questo periodo gratuitamente per esempio mi hanno fatto il villaggio di Babbo Natale i maestri di sci in collaborazione con un gruppo amici di Oltre il Colle che tutti gli anni mi fanno la sorpresa di fare questo villaggio di Babbo Natale sempre con delle novità casette nuove eccetera eccetera per cui non posso lamentarmi io dei maestri dei maestri sono fortunato sono fortunato però devo dire che mi manca un momentino l'iniziativa privata mi manca l'iniziativa privata perché con questa carenza di turismo frequente con questa carenza di una stabilità diciamo economica nessuno riesce ad investire cioè se uno apre un'attività commerciale da noi deve sperare nel bel tempo d'estate in modo che venga gente che faccia tanto caldo quindi non vanno al mare vengono in montagna ed inverno che faccia tanto freddo che ci sia tanta neve in modo che venga il suo sciare diversamente cioè 1200 persone se ci sono 6 negozi in paese hai saturato il saturabile no ma io dico tutti quelli che mi tengono aperto un'attività commerciale fanno turismo fanno turismo con grandi sacrifici perché alla fine dell'anno i conti devono quadrare e questi credo rinuncino al loro stipendio alle vacanze pur di tenere aperto magari un'attività che è partita con i nonni perché noi abbiamo una grossa tradizione come paese turistico di montagna noi avevamo 8, 10, 12 alberghi oltre il collello sa benissimo se veniva se veniva da sciare avevamo le terme alle fonti del drago dove venivano tutte le persone anemiche che oggi è stata ristrutturata sono tutti appartamenti e la fonte è acqua che va in valle non più qualificata non più qualificata e non più quantificata perché nessuno ha più l'interesse di spingere perché non c'è la struttura alberghiera che la sostiene perché oggi adesso con la mania delle spa uno vuole la camera bella vuole il massaggio vuole la piscina vuole la sauna vuole il bagno turco vuole la passeggiata è un po' quello che è successo anche qui da noi a Clusone ci siamo ridotti a non avere più alberghi se togli se togli quei due tre piccoli alberghi che sono poco più che una locanda e sono stati penalizzati prima di tutto dalle strutture dall'esigenza delle strutture alberghiere come tu nominavi prima e poi è stato anche un grosso errore da parte nostra Clusonesi di privilegiare le terze case le seconde case che succede quello che succede da voi vengono i figli i figli sono diventati grandi per 10 anni rimangono vuoti e poi vengono i nonni con i mipoti mentre l'albergo tu lo sai ogni settimana ti porta un piccolo portafoglio nuovo appena fornito e così via dicendo ti dà un ricambio d'altronde anche la clientela è molto cambiata bisogna riconoscere questo è già bello se avete degli operatori turistici economici che sono aggrappati alla loro tradizione e rimangono sì piuttosto scusami se mi permetto di fare una domanda che forse non mi compete io sono rimasto meravigliato dalla differenza di presenze estive dalla presenza normale 25 mila persone e quello è il tetto massimo che abbiamo mettiamo 20 mila come sindaco come fai a gestire i servizi di colpo da 1500 persone a 20 mila persone il problema della nostra amministrazione non è un problema perché noi dobbiamo organizzare il tutto per 20 mila persone calcolando che siamo in 1200 vabbè di negozio però che cosa succede che oggi le prime case non pagano niente io devo mio malgrado siccome i conti devono quadrare io anche da voi siccome devo dare il servizio per tutto l'anno a tutti quanti devo dare qualcosa in più sulle seconde case per cui ho un po' di lamentele per esempio una lamentela che ho abbastanza di frequente è che con tutte queste seconde case noi non abbiamo quantificato se sono monolocali bilocali trilocali quadrilocali eccetera eccetera però abbiamo fatto dei controlli e abbiamo visto che in certi monolocalici vengono in 4 in 5 a fare le vacanze in certi bilocali in 7-8 in certi locali magari da 100 metri o 200 metri sono due persone allora cosa abbiamo fatto una media abbiamo fatto una media e abbiamo detto ogni 40 metri quadri noi tasciamo per tre persone poi se sono in due o in uno va bene insomma la spesa è relativamente bassa non è che incide tantissimo però abbiamo dovuto fare una scelta perché mi fa piacere questa domanda perché raramente mi si chiede come facciamo a organizzare queste cose io ho anche il problema della neve pulire le strade la neve io ho devo fare devo fare dei contratti adesso in questi ultimi anni ho fatto dei contratti a forfè a forfè perché cioè se nevica tanto ci rimetti tu se nevica poco ci rimetto io esatto cioè poi si compensano un po' le cosettine però in un'amministrazione come la nostra virtuoso perché noi abbiamo quasi un milione e mezzo di euro in banca d'Italia che non possiamo utilizzare non abbiamo più trasferimenti statali viviamo di entrate nostre viviamo di entrate nostre io devo fare i conti col bilancio perché se io metto 65 o 70 mila euro a bilancio per lo snevamento poi alla fine mi arrivano fatture per 120 o 130 mila euro io rischio di far saltare il mio bilancio ovvio per cui devo cercare di mediare una situazione in modo tale che non mi va a penalizzare il mio bilancio ma mi garantisce che le strade siano perfettamente pulite però in questo modo io ho nell'appalto l'ultimo appalto che ho fatto io ho avuto l'accortezza di mettere tre Unimog con due palle grosse e una palla piccola una turbina un camion e una ruspa e l'obbligo di far lavorare tre persone al posto e la società che ha preso questo appalto ha mantenuto fede a tutto quanto e devo dire che anche l'anno scorso ha nevicato tardi tardi però ha fatto quasi un metro e trenta di neve oltre il colle paese a Zambla bisogna toglierla non è a parole bisogna toglierla poi bisogna toglierla perché poi la gente che deve andare a lavorare la mattina l'ambulanza che deve arrivare io poi ho anche la Bonsemanche oltre il colle che è questo centro di recupero di disabili di terzo livello per cui noi dobbiamo garantire determinati servizi e anzi se posso dire tra l'altro il tuo comune è anche abbastanza sparso come è sparso perché io ho non è concentrato oltre il colle Zorzone Zambla bassa Zambla alta poi ho una parte della conca dove c'è la Bonsemanche che mi dà da lavorare un centinaio di persone tra dirette e indirette per cui sono realtà queste ma che ben vengono nei nostri paesi perché comunque mi tengono mi tengono lì le famiglie come non abbiamo non abbiamo parlato delle miniere che mi stanno andando avanti ci arriviamo ci arriviamo volevi Giacomo arrivare ci volevo arrivare anche io volevi arrivare lascio a te allora no vabbè ci arriviamo mi interessava appunto riuscire a capire mai preceduto tu libero va benissimo così il discorso servizi perché oggi vabbè c'è un'iacque a livello di equedotto a livello di depurazione però bisogna anche rendersi conto che è un conto fornire servizio per mille e due duemila persone poi di colpo per tre mela e poi da colpo vinte mela ecco bisogna anche l'immondizio ecco immondizio da raccattare che è di più però calcoliamo proprio anche l'acqua magari in un periodo anche siccitoso dall'estate perché una volta ai tempi del re sole pare che si lavassero due o tre volte in una vita adesso invece c'è gente e si lava due o tre volte al giorno sarà un eccesso di zelo di pulizia però quando te te derve fo o il dozzino porta l'acqua la scor ecco non abbiamo quella mentalità non l'abbiamo ancora acquisita quella mentalità che hanno in qualche altro paese del mondo che per esempio le acque bianche vanno in una parte noi stiamo ancora facendo un po' un miscuglio perché ci sono posti dove le acque diciamo meteoriche o quelle di falda eccetera vengono incanalate per fare i servizi igienici noi invece usiamo praticamente quella dell'acqua potabile perciò tira l'acqua da una banda tira l'acqua dall'altra finché hai mela di 200 persone tutto bene quando diventa vinte mela pensi che sarebbe il problema ecco questo tuo appunto mi dà la possibilità di ringraziare pubblicamente Uniacque perché noi da anni abbiamo abbiamo aderito al lato e lato poi ha dato la gestione a Uniacque e devo dire che da quando c'è Uniacque Uniacque non abbiamo mai avuto un problema di acquedotto cioè mai nessuno è rimasto senza acqua bene fanno dei controlli puntigliosi puntualissimi e proprio in questi giorni mi ha chiamato il presidente dicendomi personalmente che il consiglio di amministrazione di Uniacque ha stanziato quasi 4 milioni di euro per fare il depuratore a fondo valle proprio in Valparina per non immettere più questo miscuglio di acque chiare e acque scure in un fiume che attraverso una valle naturale perché la Valparina è una valle naturale dove non c'è mai stato insediamento umano per cui ecco che onore al merito anche a chi lavora perché tante volte si dice sì l'acqua la paghiamo un po' di più è vero sì è vero però il sindaco dorme tra due guanciali perché prima dovevano fare i controlli due volte alla settimana l'asolo comunque li fa indipendentemente e se ci sono dei coli batteri vanno a prendere il sindaco cioè non è che vanno a prendere qualcuno così a caso vanno a prendere il sindaco di quale risponde personalmente civilmente penalmente una volta c'era un idraulico oggi ce ne sono a disposizione tra virgolette tantissimi perché se un'iacque non ha a disposizione il signor Rossi manda il signor Verdi e sono altri posti di lavoro fino a lì sono anch'io d'accordo ho visto però che ci sono ancora alcuni sindaci che resistono o quantomeno vorrebbero resistere perché dicono che l'acqua è pubblica e dovrebbe rimanere pubblica noi invece ci fermiamo per la seconda pausa pubblicitaria terza e ultima parte di questo oltre confine ritorno subito sul sindaco di oltre il colle per il discorso miniere miniere sono arrivati gli australiani ne avevamo già accennato nella nostra precedente puntata un paio d'anni fa due anni due anni e mezzo fa sono arrivati gli australiani sia in Val del Riso che dalla vostra parte cosa si sta muovendo allora per quanto riguarda oltre il colle gli australiani hanno ingaggiato diciamo hanno fatto un bando di gare e ha vinto una società bergamasca la Maccabelli che devo dire sta lavorando egregiamente egregiamente per la messa in sicurezza l'allargamento e messa in sicurezza di tutte le gallerie che saranno poi programmate per la produzione e per i credo abbiano fatto quasi qualcosa come 5 chilometri di carotaggi arrivare ad oggi che cosa è successo durante questa partenza che gli australiani prima avevano preparato un budget di 30 milioni di euro quando hanno visto dai carotaggi dal lavoro dalla serietà dal posto dalla disponibilità anche da parte nostra nostra come amministrazione ma anche nostra come cittadini che li abbiamo ben accolti come se fossero di casa nostra anche perché ci stanno portando dei posti di lavoro dei posti di lavoro questi hanno già raddoppiato il capitale di investimento che sono passati da 30 a 60 milioni di euro tant'è vero che adesso stanno cercando dei nuovi finanziatori privati perché è una società privata questa quindi ci stanno mettendo i loro soldini perché vedono che comunque il risultato c'è si dovrebbe essere un rientro ecco hanno trovato un sacco di piombo un sacco di zinco hanno trovato delle sacche d'argento e adesso pare pare lo dico sottovoce perché non vorrei portare sfortune che stiano per trovare anche un po' di terre rare che noi compriamo praticamente dal Sudafrica e basta insomma per cui sarebbe un bel business per loro e un bel business anche per noi perché vuol dire un'attività più completa un'attività programmata negli anni ma soprattutto 200-250 posti di lavoro garantiti questo prima ancora di mettere in funzione la laveria perché adesso c'è il problema di lavare il minerale di sistemarlo di metterlo a posto so che stanno trattando col comune di Gorno per mettere a posto questa cosa non so se hanno trovato l'accordo o meno comunque io come amministratore di Oltre il Colle ho dato la mia piena disponibilità a far sì che la laveria venga costruita oltre il Colle perché per me vuol dire altri posti di lavoro per me vuol dire avere tutto unito in un'unità abbastanza abbastanza chiusa per loro diventa un aspetto economico importante perché adesso hanno allargato il fornello che va giù praticamente nelle miniere di Gorno però una volta buttato giù il materiale devono fare 11 km di galleria caricare il materiale portarlo e portarlo a quella che dovrebbe essere la laveria per cui insomma se fosse Gorno per cui non so alla fine si fanno i conticini perché quando ci sono dei soldi privati che non ci sono dei soldi pubblici alla fine i soci cominciano a dire ma come mai a me il famiglia che costa di meno rispetto a che il costo di più rispetto di là che il costo di più certo certo chiediamocelo un po' queste cosettine per cui stiamo poi devo dire che c'è una una sinergia completa ci diamo una mano noi diamo una mano a loro loro danno una mano a noi tanto è vero che ho appena completato il campo di calcio omologato CSI e tutto quanto perché i dirigenti della minera della Sitalia mi hanno dato la disponibilità a sistemarmi tutto il fondo del campo con quello smarino che risulta dall'allargamento delle miniere quindi mi hanno messo 4.000 metri quadri di questo prodotto certificato analizzato dall'ARPA e tutto quanto prestato livellato eccetera eccetera sul quale abbiamo potuto posare l'erba sintetica ultimo grido ultimo grido praticamente quello che doveva essere trasportato e buttato via allora è convenuto mettergli un arriso spianare praticamente usare tutto con intelligenza sì allora devo dire che io quando ho fatto fare il preventivo del campo di calcio si aggirava intorno a 280.000 euro i soldoni è costato dagli 80 ai 90.000 euro perché un po' i nostri operai un po' i volontari un po' dei bandi fatti in un certo modo e siamo riusciti siamo riusciti a contenere un po' le spese però abbiamo messo lì un campo che per i prossimi dieci anni non dovrebbero esserci problemi tant'è vero che la sera stessa che l'abbiamo finito non so mi diceva il presidente dell'associazione calcio che l'abbiamo finito alle 18 alle 19 c'erano lì tanti di quei ragazzi che sembravano matti non riuscivo più a fare il rispetto perché abbiamo fatto anche l'illuminazione notturna talmente erano felici e soddisfatti di avere finalmente il loro campo decente perché fanno diversi campionati dai bambini e un po' più grandicelli ma questo anche dal punto di vista sociale sociale per cui va bene grazie anche a questo indotto dalla miniera che comunque negli uffici hanno preso personale del paese in miniera hanno preso diversi ragazzi del paese sto parlando negli uffici sono dipendenti dalla Minerals nelle miniere sono dipendenti dalla ditta Marcabelli perché è lei che sta gestendo in questo momento l'appalto adesso a partire da quest'anno non lo so come saranno poi gli sviluppi perché qui poi decideranno gli australiani chi e come dovranno impiegare per andare avanti nei lavori insomma però le prospettive è una realtà che si sta aprendo che sta venendo avanti devo dire che c'è grande entusiasmo in paese perché comunque già adesso che si muovono una ventina venti venticinque trenta persone già l'aspetto economico si vede insomma i ristoranti i bar i bed and breaks che ci sono insomma se gira gente si muovono i soldi e questo da niente non viene niente da qualcosa viene qualcosa aspetto diciamo istruttivo le medie le avete conservate allora per quest'anno le scuole medie le abbiamo mantenute però abbiamo fatto un accordo con tutti i sindaci della Valserina che io devo dire che nelle tre medie io ho sei ragazzi sei o sette ragazzi per cui non è più pensabile al giorno d'oggi mantenere la scuola pensare di tenere una prima una seconda una terza media in una pluriclasse per sei ragazzi socialmente può andar bene ma scolasticamente credo sia penalizzante allora cosa abbiamo fatto grazie Giacomo per questa domanda perché non mi stavo ricordando di che cosa abbiamo fatto con i sindaci della Valserina oltre il Colle Tossena e tutti i sindaci della Valserina abbiamo fatto un consorzio ci troviamo tutti i sindaci ogni 15 giorni il presidente il sindaco di Costa Serina Fausto Dolci e concordiamo tutti i lavori che sono da fare cioè tutti i finanziamenti che ci arrivano noi non li spendiamo più a pioggia c'è 10.000 euro qui 10.000 euro no quanti sono 100.000 benissimo ci mettiamo lì diciamo cosa facciamo con 100.000 vogliamo recuperare il laghetto di Algua per fare la pesca sportiva perfetto quel finanziamento lo dirottiamo lì quest'anno avevamo 130.000 euro a disposizione che ci ha dato il BIM pacini in briferi montani e cosa abbiamo deciso di fare creare il concetto di scuola di qualità creare due plessi scolastici Serina e Costa Serina dove convergono tutti i ragazzi delle nostre vali Tricolle Tossena e Valserina perché siamo stanchi di essere gestiti dall'alto diciamo da quella che è la dirigenza scolastica e noi non possiamo fare niente in questo modo noi cominciamo a mettere 130.000 euro quindi abbiamo comprato tablet per tutti i ragazzi della prima della prima media e della prima elementare i tablet per gli insegnanti abbiamo programmato il corso sia per gli insegnanti di aggiornamento per i tablet gli insegnanti sia per i ragazzi corso di inglese con i docenti di madrelingua inglese corsi di psicomotricità e corsi di teatro di dicitura di dizione sapersi esprimere di dizione di dizione di dizione questo è molto bello perché oggi un sacco di giovani non sanno esprimersi vivono di cioè volevo dire sì insomma pota 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 almeno è bello dai è un po' aulico è un po' è un po' un nostro aspetto sanitario voi orbitate su San Giovanni Bianco aspetto sanitario noi abbiamo il nostro ospedalino lì a San Giovanni Bianco che ha perso la natalità sì ma ha perso la natalità ma per un motivo semplicissimo perché abbiamo avuto tantissime discussioni come ho leggero i giornali in questi giorni ci sono anche qui eccetera ma io l'ho detto qualche anno fa e lo ripeto oggi in televisione un centro di natalità perché sia ottimale deve avere un certo numero di nascite perché deve avere la patologia neonatale deve avere tutti i medici specializzati il personale specializzato le strutture idonee adatte cioè se nasce un bambino non puoi prendere un'ambulanza e portarlo a Bergamo o da qualche altra parte perché lì non è la struttura per poterlo tenere in vita tante volte e allora è meglio che io l'ho detto San Giovanni Bianco è un ospedale di frontiera abbiamo Foppolo, Carona tutti i paesi della Goggia che sono lì che gravitano lì anche i nostri paesi possono gravitare lì facciamo un bel centro di pronto soccorso di traumatologia va bene di primo intervento proprio cioè cominciamo a organizzare bene quello in modo che possiamo salvare qualche vita stabilizzare stabilizzare il lungo decente e da gente giù un pezzettino stabilizzare il malatto stabilizzare il malatto poi insomma perché noi Giacomo non so se tu lo sai ma abbiamo fatto anche l'elisoccorso notturno sul Collegio di Dambla quindi siamo stati i primi i primi a farlo solo che adesso abbiamo abbiamo un problema io ho la piazzuola ho l'illuminazione dalla base accendono arriva l'elicottero è tutto acceso a terra terra il medico terra tutto ho l'ambulanza ferma perché non ho i volontari che mi guidano l'ambulanza per cui noi adesso stiamo facendo riunioni 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 per cercare di convincere che ho dato la mia disponibilità nonostante abbia una certa e che abbia difficoltà per dare l'esempio dico ragazzi se riusciamo a salvare una vita abbiamo vinto una vita abbiamo vinto ne abbiamo già salvate diverse con questo con questo l'elisoccorso notturno però vorremmo che diventasse funzionale al sistema ne abbiamo un'automulanza nuova con la croce verde che adesso ha la sede a Serina perché ne abbiamo spostata da oltre il colle a Serina e oltre il colle non ci stavano più va bene però questa automulanza deve funzionare perché oggi se tu chiami hai bisogno di qualcuno o ti arrivano da Selvino o da Almenno o da San Pellegrino o da Paesi di Mitro o da Clusone o da Clusone per Castione più facile e abbiamo lì una un'automulanza ferma ecco i rapporti oltre il colle valle del riso valle seriana ottimi sì sull'ottimo non discuto però non penso che oltre il colle orbiti molto di qua a parte magari qualcuno che possa arrivare a Fantoni piuttosto che da un'altra parte scolasticamente allora scolasticamente io ho un po' di ragazzi di Zambla Alta che gravitano da questa parte perché sono più comodi sì perché sono proprio sul colle e sono più vicini a Gorno però anche li stanno sul passaggio della zone sì anche perché il servizio viene pagato totalmente dall'amministrazione comunale poi io devo organizzare un sistema che mi faccia il giro mi raccolgo tutti i bambini e me li porto a scuola quindi abbiamo venuto a comprare il polmino abbiamo venuto a prendere degli accompagnatori insomma come dicevi tu prima i servizi quando ci sono poi devono più o più o più funzioni devono andare e devono andare noi abbiamo ancora tre o quattro minuti e ne voglio approfittare la cattedrale che punto è? la cattedrale sta andando benino nel senso che abbiamo trovato il punto critico della cattedrale vegetale che quando è stata fatta non è stato analizzato il terreno quindi sono state messe delle piante probabilmente non autottone in un terreno argilloso e sassoso quindi si sviluppavano le radici alla base quindi crescevano dei piccoli bonsai ma il faggio ha bisogno quindi noi grazie a un mio assessore che si è preso l'incarico si è preso l'incarico e Pierangelo Palazzi lo voglio citare perché ci ha messo dell'impegno scavato ogni alberello ha scavato tutto intorno ha messo della terra nera ha messo del letame ha preso delle piante autoctone le ha praticamente messe nell'aerione e pare che stiano funzionando stiano funzionando cioè nel giro di due anni abbiamo già visto una crescita di quasi due metri di quasi due metri qualcuno confonde un attimo quella che dovrebbe essere la catarrata vereditale con l'aspetto legnoso che è il sostegno di quello che dovrebbero essere i faggi di crescita come questi la gabbia la gabbia sono tutti abeti gli abeti dopo 5 6 7 anni marciscono per cui noi per sicurezza abbiamo dovuto togliere tutti quei pezzi di ramo che salivano che facevano praticamente la cupola della cattedrale proprio per evitare che cadessero in testa la gente perché nel frattempo speriamo che vadano avanti questi faggi e che riescono e che riescono praticamente a completare con le loro chiome ad arrivare allora un paio di minuti ancora ricordo che ovviamente esiste un sito per chi voglia essere curioso di capire dove dove e come arrivare ad oltre il colle ricordo ancora che per chi dovesse salire dalla nostra parte si arriva a Ponte Nossa si entra in Val del Riso si va al Colle di Zambla per chi viene su dall'altra parte è possibile salire da Selvino possibile salire da San Pellegrino possibile salire da Serina tranquillamente la strada la strada è bella tra le altre cose ben tenuta pulita la ultima parte in alto è larga ecco oltretutto è un paese che d'estate offre non solo d'estate in tutto l'anno ma d'estate particolarmente offre di tutto e di più perché nel loro piccolo le manifestazioni estive io le seguo tante volte così vedendole o udendole vedo che le iniziative sono tante e poi ricordo una cosa che fa sempre piacere non abbiate il timore mando mette la macchina perché sono forniti anche di un buon numero di parcheggi e dei consistenti piazzali per parcheggiare perché anche questo è interessante a volte uno dice eh lì andate dopo gariero io metti solo la macchina se tu gariero ti metti solo la macchina certo se tu riesce con 40 si pulma magari no però macchina ti gariero tranquillamente se poi hai hai delle conoscenze c'è dell'ottimo salame grazie ma credimi vedrò di staccarlo dal dal soffitto vale la pena di andare su allora io ringrazio innanzitutto Valerio Carrara che si è fatta la scarpinata automobilistica oltre il Colle Clusone ritorno sicuramente ci risentiremo sicuramente ci rivedremo eh per le persone di oltre il Colle che magari dicono è il nostro sindaco è stato lì non l'abbiamo potuto vedere sì noi col segnale non copriamo quell'area lì però sul sito myvalley.it il mercoledì giovedì dopo l'ultima replica perciò tre quattro giorni dopo la prima diciamo che va al sabato è possibile vedersi e la puntata rimane ringrazio Olivero che come al solito mi dà come al solito a volte ritorna a volte ritorna mi dà una mano e cosa volete che vi dica ad mai ora ci vediamo e buon anno arrivederci a tutti grazie 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 a tutti